ciao ci sono solo biglietti distinti tribune curva e saurito e ce ne 5.000 fatemi vedere i biglietti a che ora siete arrivati per prenderli? 7 le hai fatto stare stamattina? prima anche Ma bisogna fare più il tifo a Genova o qua secondo voi? Io vado anche a Genova oggi Più il tifo a Genova Io vado a Genova, speriamo che vada bene stasera Che sarebbe già un bel passo avanti Voglio vedere i biglietti allora? A che ora siete arrivati voi? Dalle 4 e mezza Dalle 4 e mezza di stamattina A che ora sei arrivato, vorrei prenderlo? 6 e mezza Ma vai anche a Genova? No Solo qua a fare il tifo in casa quindi A che ora siete arrivati per prenderlo? 3 biglietti Quanti ne hai presi? 3 Quanti biglietti danno a volta? 4 4 al massimo A che ora sei arrivato? Io sei arrivato qua alle 7 e mezza 7 ero qua, 7 e mezza in cui volevo prenderlo Da che ora siete qua? Alle 9 e mezza in cui vado a prenderlo? 4